Emo trasfusioni con sangue infetto e danni al paziente. Sarà il Ministero della Salute a risarcire, lo ha stabilito la prima Corte d'Appello Civile di Roma. I giudici hanno respinto un appello proposto proprio dal Ministero, avverso una settenza emessa dal Tribunale monocratico Capitolino nel 2006. 30 milioni di euro, la cifra stabilita per il risarcimento. Per i giudici il Ministero della Salute è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati. E quindi il Ministero risponde dei danni conseguenti ad epatite ed infezioni da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sui emoderivati. Una vittoria importante che segna una svolta per il futuro, ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Nazionale No AIDS Onlus, Giuseppe Barone. Le tante persone, i tanti politrasfusi d'Italia, ma in modo particolare anche quelli della regione campana, delle nostre regioni che si sono rivolti negli anni addietro a noi, all'Associazione Nazionale No AIDS Onlus, oggi un primo tassello e giustizia, diciamo, potremmo dire sia stata fatta. Il Ministero della Salute dovrà finalmente risarcire quanti hanno contratto infezioni post-transfusionali e questo è a deciderlo la Corte d'Appello Civile di Roma. Quindi hanno rispinto un appello proposto dal Ministro della Salute e questa sentenza, emessa dal Tribunale Monocratico Civile di Roma, ha deciso, rispingendo l'appello del Ministro, a risarcire le tante persone che attendono giustizia. Ogni regione dovrà poi attivarsi. Prima tutto era demandato alle ASL di competenza, alle USL all'epoca, quindi vi era l'ufficio speciale della legge 210-92 che consentiva di fare richiesta a quanti avevano contratto infezioni post-transfusionali ad accedere poi all'emoindennizzo. Grazie a tutti.